Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi la classifica dei migliori smartphone del 2017. Prima di cominciare però voglio fare una menzione speciale, in particolare per tre prodotti. Uno per la completezza dell'offerta ad un prezzo contenuto e perché probabilmente sarà il suo esordio in Europa. Xiaomi Mi A1 che con Android One e con le sue caratteristiche rappresenta davvero un'offerta molto interessante. E poi voglio dirvi anche di Sony XZ1 Compact, l'ultimo baluardo per chi vuole un telefono completo ma con dimensioni ridotte. Veramente un prodotto molto molto interessante. E' una menzione speciale anche per Honor 9 che combina un ottimo compromesso tra qualità del prodotto e prezzo di vendita. Non è nella top 10 ma probabilmente meriterebbe di esserlo. Alla posizione numero 10 metto il primo Nokia che abbia, insomma, diciamo, la dignità di quel nome. Dopo tutti i prodotti di fascia medio-bassa che abbiamo visto nel corso dell'anno, decima posizione per il Nokia 8. Posizione numero 9, so già che per molti di voi, insomma, non sarà una posizione accettabile perché il processore è vecchio, perché gli aggiornamenti sono stati pochi. E' vero, non è al 100% il telefono dei sogni ma secondo me rappresenta uno dei migliori prodotti dell'anno, LG G6. E alla posizione numero 8 torno a parlarvi di un marchio che secondo me deve ancora trovare una dimensione nel mondo del mobile o ritrovare una dimensione nel mondo del mobile, ma questo prodotto è bellissimo. Parlo di Sony XZ1. E a proposito di telefoni invece molto discussi, molto dibattuti, la posizione numero 7 per me è quella di Google Pixel 2 XL. E' vero, ha uno schermo che vira verso il blu quando lo si inclina, ma la fotocamera è talmente bella che fa dimenticare tutti gli altri difetti. La posizione numero 6 è per me di uno dei prodotti più interessanti del mercato, peraltro uno dei più belli dal punto di vista estetico, ma non riesce ancora ad essere tra i top dell'anno. Rimane però un prodotto veramente eccellente, LG V30. Avvicinandoci ai vertici della classifica, alla posizione numero 5 ho inserito OnePlus nelle due versioni 5 e 5T. Alcuni dei clienti si sono un po' arrabbiati per il cambio di modello in corso a pochi mesi di distanza dalla presentazione di OnePlus 5, ma sono due prodotti comunque con una scheda tecnica molto completa, con caratteristiche veramente molto interessanti e tra l'altro anche con un aspetto gradevole. Rapporto qualità-prezzo numero 1. Posizione numero 4 invece per me per Huawei Mate 10 Pro. Se Huawei P10 mi ha un po' deluso perché la batteria non era il massimo e perché tutto sommato era solo un piccolo avanzamento rispetto al P9, Huawei Mate 10 Pro rappresenta secondo me uno dei migliori smartphone in assoluto del mercato e probabilmente per regolarità, affidabilità e velocità potrebbe essere il numero 1. La situazione si fa seria perché stiamo entrando nella top 10. Terzo classificato per me per il 2017 è il Samsung Galaxy S8. Due modelli, il Galaxy S8 con una batteria peraltro molto performante, un design bellissimo, un software completo, forse quando è uscito un po' acerbo proprio nella velocità e nella reattività, ma rimane ancora oggi uno dei telefoni più belli del mercato. E alla posizione numero 2? No, no, non c'è una posizione numero 2, c'è un ex equo perché secondo me al primo posto ci sono due smartphone nel 2017 e lascio scegliere a voi quale sia il numero 1 perché secondo me fanno parte di due mondi distanti che ormai è addirittura difficile confrontare. I due migliori prodotti dell'anno sono iPhone X da una parte e Galaxy Note 8 dall'altra. iPhone X perché ha rinnovato il telefono più venduto della storia, ha portato un design molto più avanzato e perché ha una qualità nella costruzione assolutamente superlativa. Galaxy Note 8 perché è il prodotto più completo, è il prodotto più innovativo, è il prodotto che ha rilanciato una serie di smartphone messa a dura prova dallo scandalo di un anno fa. Però il Galaxy Note 8 ha un elemento di miglioramento, la batteria, mi sarei aspettato molto di più, ma questi due sono secondo me i migliori in assoluto del mercato. Lascio scegliere a voi chi è il numero 1. Buon anno a tutti!